per me la carriera la mia testa video la cosa casa faccio un segno di cuore 4 dai un po' di mangiare con un po' di mangiare cosa sta a dire? non mi occupa non mi occupa non ci credete ma fatta con un cabraggio un pezzo chiamiamo Emi stai provando lei non è capace hai capito? senti? eh eh si ma che cosa non sta vedendo concia tu manca mi stai facendo un rifugio? vai fa vedere il video dentro e allora che c'è a me non è capace 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 cadete il prof scendi uno che fa il prof? basta stop 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 è capace è capace spegni tutto basta basta